ciao a tutti io sono Francesca e comincio così questo vlog allora è mercoledì anzi la peggio è giovedì però io ho fame mi sto mangiando una pesca sto per cominciare l'ho tagliata perché stava cominciando a mandare un po male mi vero questo caffè qua però volevo far vedere una cosina che ho preso oggi cioè oggi era da ieri ripeto alle bancarelle ah lo so che non è sano mangiarmi con mezzanotte però più che mangiare una schifezza mi preferisco mangiarmi un po di frutta e poi una pesca non fa male questo porta chiave pokemon ho preso le bancarelle e c'è schifo Pikachu ho preso solo questo perché per esempio mi interessava anche tipo charmander perché c'è anche quello di charmander però non c'è scritto charmander c'è scritto Pikachu quindi l'unico buono era questo e infatti ho preso questo e niente lascio mangio e bevo questo caffè e poi vado a letto tanto io dormo lo stesso col caffè anche posso per me neanche tre che dormo lo stesso e sì comunque piove vabbè niente ci mettiamo a qualche ora buongiorno è mezzogiorno meno 10 e questa è la pappina per mia figlia tempestina biologica olio parmigiano e formaggino e adesso le lighe a fame giustamente come secondo praticamente l'ho schiacciato dei pisellini ho messo un po di olio questo è il suo secondo buongiorno oggi è giovedì e sto per registrarvi un bel mac bang questo è il mio pranzo insalata caprese ci ho aggiunto i pisellini che non avevo preparato per mia figlia anche perché ne avevo preparati troppi quindi va bene così e io ci ho aggiunto solo un po di sale non ho neanche messo l'olio perché l'olio non lo metto mai nei miei pasti quindi di mia figlia sì però allora io faccio merenda con questa mia figlia fa merenda con questa visto che si è appena svegliata allora ho ritirato tre magic box perché una l'ho ordinata per sbaglio però non potendola più annullare niente l'ho passata a ritirare lo stesso poi il cibo l'ho messo nel congelatore adesso do da mangiare questa pestifera qua che ha mangiato nemmeno due ore fa però secondo me comincio ad avere un pochettino di fame quindi tanto comunque la pasta la devo soltanto riscaldare nel microonde buongiorno oggi è venerdì e sto preparando la collezione per mia figlia devo mettere 8 cucchiai di questa roba qua dentro l'acqua che ho scaldato 1 2 3 4 5 6 vabbè io faccio un po' così eh 7 e 8 questo è latte biscotti praticamente ho scaldato l'acqua il biberon però vabbè va messo nella tazza però per scaldare la quantità giusta l'ho messa nel biberon e adesso glielo vado a dare eccoci qua continuo il vlog così ne approfitto perché comunque i miei hanno avvisato che arrivano allora non è il fondotinta che mi fa un altro colore qua è la luce allora i miei arrivano dopo le tre quindi adesso mia figlia ha pranzato ha mangiato quello che deve mangiare a parte il secondo e il secondo le verdurine ancora non ci piacciono molto però non approfitto per farvi un altro mukbang visto che stamattina venne registrato uno con praticamente lo mangio due bomboloni vado a pigliarmi il gelato visto che comunque ce l'ho nella dieta al posto del pasto posso mangiarmi un gelato da due o tre gusti quindi lo vado a prendere e vi faccio il gelato e vi faccio il gelato ovviamente buongiorno oggi è sabato e andiamo a pranzare con un gelato allora questo qui è il gelato mia figlia sta piangendo perché lo vorrebbe anche lei prima però mi sono scaldato un bicchierino sì metà metà bicchiere quasi di latte di soia devo dire che mi piace un sacco il latte di soia mi piace l'odore che fa mi piace il gusto tutto e quindi me lo bevo allora non so se chiudo il vlog così perché devo vedere insomma quanti minutaggi sono vabbè di vlog comunque ho acquistato oggi questo dick box pokemon per metterci le cartucce del 3ds perché sì ho ordinato il 3ds dovrebbe arrivare venerdì oggi comunque domenica poi per la switch ho comprato questo qui all'hypercoppa un giochino interessante secondo me poi abbiamo preso dalla pre natale ipercoppa un po mix papalatta per i biscotti cioè per i biscotti papalatta biscotti non per i biscotti questi poi questi papalatta questi biscottini qua biologici poi mini crack questi però li ho prese la pre natale poi sempre la pre natale tutta roba adesso questa è tutta roba che scade il primo di settembre quindi però comunque roba che l'elenagente 2 al giorno quindi questi poi tutti questi insomma abbiamo preso un po di roba e basta questo è quello che abbiamo preso quindi ciao Grazie a tutti.